benvenuti in questo nuovo video teoria di guampisi massimi esperti prima di iniziare iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate la campanella oggi parleremo dell'uomo dell'equilibrio shanks il rosso un personaggio che ci viene presentato nel primo capitolo uno dei primi personaggi importanti per la trama che viene fatto vedere possiamo dire che è stato lui l'uomo a dare inizio all'avventura di luffy come pirata lui fino ad oggi è stato l'uomo dell'equilibrio infatti crediamo che abbia temporeggiato e quindi fatto da tramite per tutto questo tempo in attesa che ritornasse il nuovo re dei pirati quindi lui fino ad adesso ha soltanto atteso il ritorno metaforico del capitano roger rappresentato naturalmente e ovviamente dal nostro luffy sappiamo bene quanto le trottrine di questi paesi orientali credano in quella che la mete psicosi e la reincarnazione come tutti sappiamo shanks ha scommesso sul luffy perdendo il suo braccio naturalmente e affidando gli anche il cappello che era appartenuto proprio al capitano roger difatti quando incontrò relli gli disse che aveva conosciuto un ragazzino che diceva le stesse parole del capitano sappiamo bene anche che shanks andò da barba bianca per convincere ad affermare ace dall'affrontare ticci barba nera perché egli era troppo forte e pericoloso dicendo gli anche aggiungendo che la giocatrice sul suo volto era stata inferta da lui e non era nemmeno distratto in quel momento sempre shanks andò a fermare kaido perché quest'ultimo voleva presentarsi a marine fort alla guerra della supremazia quindi fece questa situazione per far sì che non si creassero ulteriori problemi a quella che fu una guerra già sanguinare quindi poco dopo lo vediamo in modo sorprendente arrivare a marine fort e porre fine a quella grande guerra due anni dopo il time lo rivediamo prima ad un matrimonio con la taglia di rufi di 500 milioni ma molto più importante successivamente ai fatti accaduti a walkie kailan su una scogliera ammirare la taglia nuova di rufi quella di un miliardo e mezzo quello quando viene definito il quinto imperatore pochissimo tempo dopo lo vediamo arrivare a mary juas e presenziare dai cinque assi di saggezza prima che iniziasse ufficialmente il reverie in quel momento disse che andava a parlare di un certo pirata e tra poco analizzeremo questa situazione però la cosa importante è che analizzando nei fatti tutte queste situazioni shanks viene presentato sempre come un protagonista pacifico rispetto alle ostilità l'uomo che ha sempre cercato di mantenere l'equilibrio emblematica la frase nei fatti che viene ripetuta sia da egoro sei che da sengoku è la seguente va bene solo perché sei tu cosa vorrà dire perché sei tu sappiamo bene che scienzi imperatore da soli sei anni e dei pirati attualmente in vita alla terza taglia dopo kai do e big mo sappiamo ancora di più informazioni su di lui dopo e flashback di oden del fatto che lui non andava l'hug tale al pari di buggy ma roger ci teniva molto al rosso tanto da affidare il cappello di paglia quasi come se quello fosse un passaggio di testimone per cercare il nuovo re nelle generazioni future e chissà cosa gli avrà detto all'epoca roger prima di far sì che si sciogliesse la ciurma fatto sta che adesso è finito il momento di temporeggiare anche per shanks ormai l'equilibrio non c'è più perché rufi è pronto a compiere la profezia ad attuare la volontà editata e il volere di j boy e di roger quindi shanks non ha più un motivo di fare da intermediario fra le varie forze il governo la marina e i pirati inoltre aggiungiamo che è stata sciotta anche la flotta dei sette come sappiamo detto questo per noi il pirata di cui voleva parlare shanks e onigoro sei è proprio rufi anche perché è lui ad essere nell'occhio del ciclone è lui ad avere sfidato prima un imperatore nel suo territorio cioè big mom in quei tempi ed oggi adesso a wano kun per sfidare kaido e liberare il popolo dei samurai sempre lui è il primo manifesto da ricercato tra le mani di msama quando ci viene mostrato il famoso cappello di paglia gigante barba nere invece era già conosciuto da tempo ormai essendo diventato uno dei quattro imperatori ricopre una carica di prestigio e se shanks avesse voluto parlare proprio di lui l'avrebbe fatto già dopo i fatti di marineford subito in quel momento quindi come speculazione post reverie possiamo dirvi che shanks potrebbe essere andato alla ricerca di ticci visto che quest'ultimo si è mosso dopo gli avvenimenti dall'isola del secondo atto come sapete non abbiamo già parlato parlando invece del suo livello di forza sappiamo bene che da giovane rivaleggiava con i grandi due occhi occhi di falco più grande spazzina del mondo abbiamo visto la facilità disarmante con il cui contrasta sia il vecchio barba bianca ma anche quella con cui firma a kaino a marineford siamo a conoscenza del fatto che lui abbia tutte e tre achi ai massimi livelli adesso proviamo a fare chiarezza sulle informazioni che ci sono pervenute dall'ultimo magazine di one piece il volume 10 dove abbiamo visto che viene menzionato quella che la differenza della mera forza fisica tra i vari imperatori e non vengono menzionati le abilità e poteri noi infatti non crediamo proprio che shanks il rosso sia il pirata più debole dei quattro imperatori anzi rispetto agli altri quattro cioè kai do big mam tic e il defunto barba bianca lui è l'unico non fruttato shanks per adesso ufficialmente essendo l'unico non fruttato compensa ciò con i tre achi sviluppati ai massimi livelli come facevano ai loro tempi roger e reili ad esempio infatti ha dimostrato più volte di possedere un achi del re mostruoso ma anche gli altri due achi sono lo stesso al massimo livello e questa caratteristica di questi achi la possiede lui e altri pochi personaggi in tutto il mondo che vedremo sicuramente più avanti nella storia adesso però procediamo con le relazioni sui suoi poteri e le sue origini molto interessante è la velocità con cui shanks si muove da un posto all'altro del mondo prima marineford poi america e gli è arrivato in modo inspiegabilmente veloce qui nasce una piccola illazione su da grifon la sua spada la sua sciabola analizzando la figura del grifone sappiamo che la maggiore frequenza di rappresentazione di questa creatura ibrida si riscontra nell'arte minoico micenea e greca tuttavia si trovano alcune figure archetipe o comunque correlabili ad essa in diverse civiltà del mediterraneo e del medio oriente difatti come figura araldica simbolizza la custodia e la vigilanza inoltre poiché riunisce l'animale dominante sulla terra il leone con quello dominante in cielo l'aquila il grifone simbolizza anche la perfezione e la potenza ad esempio nella cristianità è indicato come il simbolo dalla doppia natura terrestre e divina quindi potrebbero esserci dei poteri speciali per quanto concerne la velocità con cui si sposta nei vari luoghi legati proprio alla figura del grifone parlando invece delle sue origini dal flashback sui pirati rocks e di gold valley nasce una piccola relazione potremmo pensare ad un legame con rocks di xebec magari suo figlio anche se è difficile è una pura relazione oppure addirittura un'origine divina da drago celeste un po come per lo famiglio quindi questa seconda ipotesi sarebbe molto interessante che come vi vogliamo ricordare dal video di mesama fatto da noi cosa che fa paura alle persone del mondo di one piece oltre la forza però diciamo noi a conoscenza shanks quindi potrebbe conoscere tantissimi segreti del governo mondiale del mondo sia grazie al fatto che faceva parte della turma di roger ma anche grazie alle sue possibili origini molto misteriose molto importante ricordatevi anche questo richiamo che abbiamo fatto al grifone con queste varie caratteristiche che sembrano proprio adatte all'uovo dell'equilibrio detto questo il video è finito come sempre passate a tutti i nostri social le due pagine facebook il canale telegram l'account instagram e qui su youtube iscrivetevi lasciate un like e commentate passate anche dalle nostre collaborazioni e come sempre anche oggi noi abbiamo detto solo la verità ora voi venite a dirci cosa ne pensate qui nei commenti quello che volete anche un commento da sfogliatore un saluto dai massimi esperti incredibile oggettivo pensavate che il video fosse finito e invece no perché i massimi esperti vi donano un piccolo extra in questo momento noi parlavamo della conoscenza quindi la pericolosità non solo intesa come forza e basta ma anche come conoscenza per shanks vero è un'altra cosa vogliamo aggiungere a questo video molto importante il 4 rohad ponierif quello disperso quello rosso che è uno dei quattro che serve per arrivare all'augtail shanks sei anni fa potrebbe esserne entrato in possesso diventandone così il custode ma il custode anche per raggiungere l'augtail a quel punto perché senza di esso non si può arrivare e quindi diventando così imperatore perché ha informato il governo mondiale di essere uno dei possessori oltre bigmo e caido come sappiamo un altro è a zoo però quello è extra perché naturalmente non è nelle grinfie di nessun imperatore quindi aggiungiamo questa piccola chicca magari oltre le conoscenze per essere magari il figlio di xebec magari un drago celeste e essere stato un membro e la ciuma di gol di roger potrebbe anche essere appunto e lo ripetiamo il possessore del quarto rohad ponierif un saluto definitivo stavolta dai massimi esperti grazie a tutti